Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri I titoli del telegiornale Schiamazzi, atti vandalici e molte notti insonni In via dello Squero, vicino al porto Canale di Fano I residenti sono stanchi di sopportare la movida molesta Un incubo, non si vive più, non è possibile 48 anni che sono qui, è una cosa assurda Perde il controllo dell'auto a causa dell'asfalto viscido Per la pioggia e finisce nel fosso Paura per un 57enne di terre roveresche Che però esce miracolosamente il leso dall'abitacolo Riaperto dopo sei mesi di chiusura Il centro Alzheimer di Fano Già dentro i primi anziani, i familiari Mai più la chiusura della struttura Numedi prossimo riapriranno i nidi Ecco le nuove regole Dal termoscanner all'ingresso All'ammensa scolastica Le rondini se ne vanno Noi come ogni anno salutano in una sorta di danza collettiva Il luogo che li ha ospitate A Fenile di Fano la scena si ripete ogni anno a fine stade Che rapporto c'è tra l'alimentazione e il nostro sistema immunitario Se ne parlerà questa sera dopo il telegiornale a missioni salute Con la biologa nutrizionista Patrizia Bontempelli Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17 Apriamo con un incidente Un incidente autonomo che si è verificato questa mattina Intorno alle 11 Sulla strada provinciale per Cerbara All'altezza del ristorante Biricocco a Fano Un 57enne di terre roveresche era alla guida di una Fiat Panda Quando percorrendo una curva ha perso il controllo del mezzo Anche a causa del fondo stradale bagnato La vettura è finita prima contro il guardrail E poi nel fossato laterale Per fortuna l'uomo è rimasto illeso Ed è riuscito a uscire dall'abitacolo praticamente da solo Tant'è che ha rifiutato l'intervento del 118 Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco E la polizia locale di Fano per i rilievi di legge Il veicolo è stato recuperato dal carattrezzi Schiamazzi, atti vandalici e notti insonni E' quello che ad ogni fine settimana I residenti di via dello squero a Fano Sono costretti a sopportare ormai da diverso tempo Nel frattempo alcune persone hanno scritto Una lettera indirizzata al sindaco di Fano Massimo Seri Per intervenire subito Filippo Pucci Il bronze non è niente a confronto, mi creda Quando comincia un'ora alle due e mi viene l'incubo L'incubo proprio Un incubo, non si vive più Non è possibile 48 anni che sono qui E' una cosa assurda E' se non era uno dei posti più belli e caratteristici della città Quello del porto canale Via dello squero in zona Lido a Fano Peccato che qui, durante la notte, è un continuo susseguirsi di vandali Ma soprattutto di schiamazzi Io abito qui dalla bellezza di 68 anni Avevo 7 anni Quando dal viale Cairoli mi sono trasferita in via dello squero Era la via più bella di Fano E' diventata una delle più brutte A causa della movida E' come ha detto la signora Tutti i fini di settimana è così Dopo la mezzanotte fino al mattino L'ultimo atto vandalico in via dello squero Risale tra la notte di venerdì e sabato scorso Dove è stata presa di mira una panchina in marmo Con un piolo di acciaio hanno rotto una panchina Che il rumore era assordante Io pensavo che avessero fatto qualche cosa sulle barche Perché un rumore così, le capisci? Nel tonfo della notte erano le tre Non erano le tre, due tre quarti Ho detto, madonna, adesso cosa rompono? Ho pensato subito alle barche Mentre invece siamo venuti giù e abbiamo visto sto disastro Sono esasperati dunque i residenti che ogni sera passano le notti in bianco Ma è sempre così Un incubo Allora io conosco alcune persone Non le do in nominativa adesso per educazione Che sono dovuti andare via di casa Sono andati via di casa Perché non resistevano Dopo tutto erano malate Le capisci con le notti così Hanno dovuto andare via Dopo una vita che vivevano qui Nel frattempo chi ha a cuore questo posto Ha già preparato una lettera indirizzata al sindaco di Fano Per intervenire il prima possibile Segnalato da inizio estate con delle chiamate Alla polizia municipale Carabinieri e quant'altro Di fare dei giri per controllare Visto che c'erano queste situazioni Allora ci hanno suggerito di fare qualcosa di scritto Al primo cittadino Vuoi non vuoi? È passato il tempo, l'ho fatta ieri sera Ormai la stagione è finita Spero, mi auguro che servirà per il prossimo anno Perché ci sono queste vere e proprie bande di ragazzini E ragazzine Che noi presumiamo Assolutamente minorenni Però non è che gli abbiamo chiesto il documento Che arrivano con bustoni Di alcolici, super alcolici Ho fatto anche delle foto proprio super alcolici Creano danni, fanno danni Mi hanno detto anche alle barchette qui sotto O con una barra mi hanno detto che hanno rovinato qui Lasciano tutto a terra E sono aggressivi perché sono in un momento in cui non sono lucidi È un peccato È un peccato perché è una via da restituire ai residenti E a chi vuole fare una passeggiata tranquilla Quindi al sindaco chiedete più controlli? Abbiamo chiesto i controlli Anche per responsabilità sociale nostra Nei confronti dei ragazzini Del loro futuro Ha interesse loro E anche interesse del bene comune È giusto intervenire Insomma sia per loro che per il quieto vivere di tutta la comunità Ancora pioggia nell'Anconetano Dopo l'ondata di maltempo di ieri pomeriggio Con nubi fraggio Forti raffiche di vento e grandine Sia in città che nelle zone limitrofe In particolare ad Agugliano e Osimo Una decina di persone rimaste ferite in maniera lieve Per cadute a causa di pezzi di ghiaccio e fogliame Che hanno reso viscido l'asfalto Ma anche per i frammenti di vetri rotti dai grossi chicchi Ad Ancona la grandine ha danneggiato anche i vetri Di una trentina di finestre della Questura E 50 auto della Polizia Il personale dell'ufficio tecnico Ha iniziato la conta dei danni Circa 100 sono stati gli interventi dei vigili del fuoco Impegnati tutta la notte per rimuovere alberi dalle strade Coppi e antenne pericolanti Danneggiati anche grondai e carrozzerie Vetri di auto in sosta Di finestre e balconi Inoltre il maltempo ha devastato le campagne Con serre distrutte Coltivazioni sott'acqua e alberi da frutta di velti Il col di Retti fa sapere Che è scattata la richiesta di verifica Dello stato di calamità Torniamo a parlare invece di Covid-19 Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati registrati Soltanto due casi positivi al coronavirus Uno in provincia di Pesaro Urbino E un altro in quella di Ancone I ricoveri salgono da 13 a 14 Di cui uno nel reparto di terapia intensiva Dell'ospedale di Ancone In aumento anche le persone che si trovano In isolamento domiciliare E quelle in quarantena Per contatti con contagiati Che ad oggi sono 2022 Di cui 73 sono operatori sanitari Dopo sei mesi di chiusura Dall'emergenza sanitaria Oggi è stato riaperto Il centro Alzheimer Margherita In attesa delle risposte di alcuni tamponi Questa mattina hanno fatto Il loro ingresso I primi anziani Soddisfatti i familiari Che però avvertono Mai più la chiusura del centro Simona Zonghetti È quasi mezzogiorno e mezza Ed ecco uscire le prime anziane Dal centro Alzheimer Margherita Dopo quasi sei mesi di chiusura Tra lockdown Burocrazia Mancanza di fondi E dubbi Sull'enorme anticontagio Da rispettare Oggi la struttura Ha finalmente riaperto le porte Presenti per un saluto Anche il sindaco di Fano Massimo Seri E l'assessore al welfare Dimitri Tinti Sono state accolte Questo è importante Tutte le richieste Dei familiari Quindi con il fatto che sono Massimo 20 al mattino Massimo poi 20 al pomeriggio Con gli spazi che sono comunque ampi È possibile in un arco temporale Più ampio Di accogliere tutte quante Le disponibilità e le richieste Quindi questo è importante È un centro al quale Noi come comunità Teniamo molto Quindi benvenga questa riapertura Finalmente dopo tanti mesi Anche i familiari E soprattutto Chi frequenta questo centro Avrà la possibilità di ritornare Avere un minimo di sollievo E tra commozione e gioia I familiari hanno voluto Ringraziare le istituzioni E tutti coloro Che ad ogni modo Hanno portato avanti La battaglia per la riapertura Del centro Soddisfatta anche l'AIMA L'associazione italiana Malati di Alzheimer Sezione di Fano Ci auguriamo che Anche tutti gli atti servizi Riprendano velocemente Tra cui la mensa Perché Perché nell'entroterra Solo quattro ore È un po' Faticoso Andare avanti e indietro Però Pian piano Noi sappiamo Che tutto Ritornerà Alla normalità Ce l'auguriamo E in attesa Che tutto Possa tornare alla normalità I familiari Delle persone malate Di Alzheimer Che frequentano La struttura Ricordano Di non dimenticare Chi dimentica Una frase riportata Sulle magliette Indossate per l'occasione E ribadita In questi lunghi mesi Di chiusura Anche da Lucia Bilancia La prima donna A riportarci La sua testimonianza Lo scorso mese di luglio Sono molto contenta E anche molto emozionata Perché il nostro grido D'aiuto È stato ascoltato I nostri Politici Locali Ci hanno aiutato Tutti E Questa struttura Ci ha badato A riaprire Un po' per La prassi Un po' per le linee guida Un po' per i tamponi Per oggi Ringrazio il cielo Che mi ha dato la forza Di difendere Mia madre innanzitutto Tutti gli ospiti Tutti i familiari Gli operatori Che sono stupendi La coordinatrice Che è super E siamo qui E sottolineo però Che questa situazione Voglio che non si verifichi mai più Abbiamo sofferto tanto E voglio che Come Ben vedete Non ci dimenticate più Questa struttura Non si deve mai più chiudere Deve rimanere aperta Perché questi malati Sono cittadini Che fanno parte Del sociale E il sociale Ha diritto Alle sue cure Ed è giusto Che un cittadino Venga curato E non dimenticato Ringrazio a tutti 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 Perché chi nel piccolo Chi nel grande Chi in un modo E chi in un altro Ci ha sostenuto Ci ha dato una mano Ci ha ascoltato Siamo stati pesanti Sì va bene Però Guardiamo il risultato Che era per un buon scopo Per un buon fine Per aiutare tante tante persone Che siamo veramente In difficoltà Incidente a Pian di Rose Nel Pesarese Un'auto con a bordo Due persone Intorno alle 15.15 Uscita di strada Finendo contro il cancello Di un'abitazione privata Sul posto Sono intervenuti I vigili del fuoco di Fano Ma quando sono arrivati I due feriti Erano già stati caricati Nell'ambulanza E non dovrebbero essere gravi Mentre si attendono invece Le linee guida Del governo su mascherine E trasporti Per il ritorno a scuola A Fano Da lunedì prossimo Riapriranno i nidi Ma con alcune novità Dall'ingresso dei bambini Fino al consumo dei pasti Vediamo Sono circa 250 i bambini Nella fascia 0-3 anni Iscritti ai nidi Del comune di Fano Lunedì prossimo 7 settembre Le strutture riapriranno Con una settimana di anticipo Per i vecchi iscritti Il servizio sarà attivo Dalle 8 alle ore 14 Con la possibilità Di consumare il pasto Oltre alla merenda del mattino Il 14 poi Inizieranno anche I nuovi inserimenti Mentre il 28 settembre Si prevede il prolungamento Dell'orario Fino alle 17.30 Per andare incontro Alle esigenze Di tante famiglie Diverse sono le novità In vista delle norme anti-covid Come la misurazione Della temperatura All'ingresso Con il termoscanner E le nuove modalità Di erogazione dei pasti In alcune scuole Addirittura i refettori Sono stati occupati Per far posto Alle aule Per la necessità Di distanziamento Che tutti sappiamo Eccetera Quindi ci saranno Delle modalità diverse In alcuni casi Il pasto sarà consumato In classe In altri casi Faremo dei turni Comunque nei refettori Che comunque Ancora sono disponibili Cercheremo di fare in modo Comunque che chi consuma Il pasto in classe Non lo faccia sempre Sempre Ma possa turnarsi Comunque con i refettori Ancora disponibili Per fare in modo Che i ragazzini Possano uscire Comunque un po' Dalla propria aula Dalla propria bolla Perché sono veramente Delle bolle Da questo punto di vista L'erogazione del servizio Come sarà La monoporzione Il lunchbox Come si chiama La lasciamo proprio Come ultima razio Nei casi in cui Magari non c'è l'ascensore Quindi non possiamo Trasportare il carrello Eccetera Naturalmente la lasciamo Come ultima cosa Perché richiede Un'organizzazione del lavoro Molto difficoltosa Ed è anche molto costoso Tra l'altro Il lunchbox Quindi pensiamo Naturalmente A carrelli termici Che ci fornirà Comunque la ditta Con la quale ancora Stiamo facendo il servizio Fino alla fine dell'anno Che arriveranno davanti Alla classe Prepareranno un vassoio Esattamente come Vediamo fare al bar Per cui tu prendi Il caffè Cappuccino Eccetera Nel vassoio Che poi viene igienizzato Quindi il carrello termico Che arriva davanti alla classe Che prende il vassoio Mette sopra le porzioni Del primo Del secondo Del pane Della frutta Eccetera Eccetera E darà ad ogni bambino Il proprio vassoio Sia prima che dopo il pasto Come specifica la dirigente Grazia Mosciatti I banchi I vassoi E i piatti Verranno igienizzati E sterilizzati Per quanto riguarda il menù Potrebbero esserci Dei piccoli aggiustamenti Dovuti al fatto Che questa modalità Di somministrazione Magari in alcuni casi Risulta un pochino Più macchinoso Magari avere delle cose Però insomma Saranno cose assolutamente lievi Manteniamo il nostro menù Comunque di qualità Assolutamente E quindi insomma Riteniamo comunque Di poter fare un servizio Assolutamente all'altezza Degli standard Che abbiamo sempre erogato E adesso la pagina politica Lucia Tarsi Ha presentato la sua candidatura Come consigliere regionale Della lista Civitas Civici A sostegno di Francesco Acquaroli Tra i pilastri Della sua campagna elettorale La difesa del Santa Croce E i settori del sociale E della cultura Ricominciamo da noi Non abbiamo bisogno Di niente che venga dall'esterno Tutto ciò che arriverà Dovrà diventare Semplicemente un volano Per ricominciare a crescere Ora cambiare si può Con questo slogan La consigliera comunale Afano Ed ex candidata a sindaco Lucia Tarsi Ha presentato la sua candidatura Al consiglio regionale delle Marche Nella lista Civitas Civitas Civici A sostegno di Francesco Acquaroli Sulla terrazza panoramica Dell'hotel Astoria Al Lido di Fano Ha presentato i componenti Della lista Ed esposto i temi Sui quali si incentrerà La sua campagna elettorale Tra i pilastri La difesa dell'ospedale Santa Croce Una battaglia iniziata Circa 15 anni fa Con Giancarlo Danna E proseguita Prima con il comitato E poi con la lista Fano città ideale In difesa dell'ospedale Santa Croce E contro l'unificazione In un'unica struttura E contro una sanità privata Che viene semplicemente A spogliare la sanità pubblica Quindi non viene ad aggiungersi Ma viene a depredare Per luciatarsi è necessaria Una rete di ospedali Sul territorio Vicine Cittadini E con servizi di qualità Toccato in conferenza Anche il tema Delle infrastrutture Strettamente collegato Ai settori del turismo E dell'economia Dal porto All'aeroporto Dalla Fano Grosseto Alla ferrovia turistica Verso Urbino La legge dello Stato Del 2017 Che è stata presentata Dal PD E in maniera assolutamente Schizofrenica Il PD locale Invece la osteggia La osteggia La ostacola Ricordiamoci Che è vero Che ora Rinascerebbe Una ferrovia turistica Ma questo sarebbe Solo il primo passo Per arrivare Ad una metropolitana Di superficie Che collegherà Fano A Urbino Con tutti i centri Della vallata E che diventerà Una risorsa Incomparabile Sia dal punto di vista Economico Sia dal punto di vista Sociale E sia dal punto di vista Ambientale Sicuramente Nel programma elettorale Rientrano anche I settori del sociale E della cultura Non solo è un motivo Di crescita personale Ma deve anche diventare Un motivo di crescita economica Perché ne abbiamo Tutte le possibilità Abbiamo veramente Un patrimonio E una risorsa Incomparabile La cultura La cultura della disabilità La cultura della differenza La cultura del sociale È qualcosa Che deve entrare Nel nostro modo di pensare Quindi Inclusione Non può essere Solo una parola La persona al centro Non può essere Solo uno slogan Che i politici Usano nel momento In cui Devono fare Campagna elettorale Noi vogliamo Riportare Le persone Al centro Cioè Tutte le persone Che hanno Una fragilità Una difficoltà Una problematicità Siamo arrivati Al momento in cui Possiamo Realmente cambiare Si è conclusa L'esperienza Del Giffoni Film Festival Iniziativa culturale Che quest'anno Ha coinvolto Per la prima volta Anche una trentina Di giovani fanesi Che a distanza Praticamente da Fano Hanno avuto La possibilità Di giudicare I film In concorso Un'esperienza Indimenticabile Quella del Giffoni Film Festival Che quest'anno Seppur a distanza Ha permesso A trenta giovani fanesi Selezionati Tra i tredici E di diciotto anni Di entrare Nei panni Di critici cinematografici E di guardare E commentare insieme Numerosi film Per poi confrontarsi Via zoom Con i registi Ed attori Del calibro Di Richard Gere Paola Cortellesi E tanti altri Una collaborazione Che vuole dare visibilità Alla città di Fano Ed aprire nuove opportunità Per il mondo Dei giovani In realtà Una cosa Che portiamo avanti Ormai da tempo Un po' con tutti gli eventi Che realizziamo L'abbiamo visto Con la Fano dei Cesari Nel rapporto con NIM L'abbiamo visto adesso Con Passaggi Festival Nel rapporto con l'Albania Ecco Anche sull'identità Di Fano Città di Bambini E delle Bambini Ed è una buona pratica Ed è una buona pratica Che intendiamo portare avanti In ogni attività Che faremo da qui in avanti Un progetto Di grande importanza A livello sia didattico Che umano Per i giovani di oggi Geffoni E parlano liberamente Di quello che vogliono Un festival che ha lasciato Un segno indelebile Nei giovani Che vi hanno partecipato Tanto da parlare Di sindrome di Giffoni La sindrome di Giffoni È una delle caratteristiche Del festival Perché come diciamo noi A Giffoni appunto Si piange quando si arriva Perché si rivede Tutta quell'atmosfera Si rivive tutta quell'atmosfera E poi si piange Quando si parte Perché appunto Si lascia questa bellissima città Questo bellissimo festival E adesso guardate queste immagini Si tratta di un centinaio di rondini Che ha iniziato a volteggiare A bassa quota Ad alcune di queste Si sono aggrappate I muri delle abitazioni Come vedete in questo video La scena non è passata Inosservata ai residenti Infatti chi ha ripreso il momento Ha raccontato che questo episodio Si verifica praticamente ogni anno Come una sorta di saluto A fine della stagione estiva Per poi migrare In altri luoghi caldi Del pianeta Tra poco Dopo il telegiornale Andrà in onda La quinta puntata Di Missione Salute L'ospite sarà La biologa nutrizionista Patrizia Bontempelli Che ci parlerà Del rapporto Tra il cibo L'alimentazione E il nostro sistema immunitario Sentiamo un'anticipazione Di questa intervista Mi sento di darvi Alcuni suggerimenti Innanzitutto Favorire interventi Di sensibilizzazione Sui benefici Di una corretta nutrizione Sul sistema immunitario Cercare di Eliminare Sovrappese Obesità In quanto L'obesità È una vera e propria patologia Che provoca Un'infiammazione Latente Di base E che porta ad avere Un substrato Predisponente Alle malattie infettive Promuovere In particolare Tra gli anziani L'assunzione Di alimenti ricchi Di vitamina D E Anche una Supplementazione In quanto Si è visto Che il 90% Della popolazione Italiana Ha una carenza Di vitamina D All'università Di Torino Sono stati condotti Degli studi E Hanno potuto Affermare Che i livelli Ottimali Di vitamina D Permettono Di rispondere Meglio All'attacco Di virus Che colpiscono Le vie respiratorie Il consumo Di alimenti Ricchi di vitamina D Come Per esempio Brassicace Tra cui ritroviamo I broccoli I cavoli I cereali Fortificati Per la colazione Gli agrumi Oppure Di zinco Che si può trovare Nei crostace Nei fagioli Nelle uova O anche Assunzione Di omega 3 Come supplementazione O di alimenti Contenenti omega 3 Come per esempio Il pesce azzurro Il salmone E altri pesci grassi Questi sono Alcuni dei consigli Che mi sento di darvi Per prevenire Non solo L'infezione Da covid Ma anche Qualsiasi Altro tipo Di infezione E allora Appuntamento Con la missione Salute Subito dopo Il nostro Telegiornale E c'è anche Un altro speciale Però in scaletta Questa sera In palinsesto Ovvero Uno speciale Una presentazione La lista Rinascimarchi A sostegno Di Maurizio Mangelardi Del centro-sinistra Che si è tenuta Ad Ancona È tutto L'informazione Torna in diretta Domani mattina Come sempre Alle 7 Con la rassegna stampa Occhi giornali Arrivederci A presto